Ci troviamo nel quartiere Providenza, in particolare in via Barone Lanzirotti. Ci ha chiamati Mario Geraci, in pratica l'amministrazione comunale sta provvedendo a coprire le buche. Lei la scorsa settimana tra l'altro con la sedia a rotelle è caduto. Ma prima di parlare di quello che le è successo, le buche come possiamo notare non sono coperte proprio bene? No, non sono coperte bene, infatti hanno messo un po' di materiale diciamo ginesi per coprire le buche. Però il problema non è questo, se voi vedete restano i fossi, passando con la sedia a rotelle o con le stambelle io posso cadere e avere dei problemi. Ma il fatto è un'altra cosa, perché passando le macchine questo materiale si toglie. Comunque la strada è tutta un gola a brodo e specialmente quando piove tutta l'acqua si copre le buche. Se passa una macchina bagna tutti e c'è il rischio che la macchina sprofonda. Immaginiamo con i motorini che succede. Cosa le è successo la scorsa settimana? La scorsa settimana che io sono uscito dall'ospedale vado per camminare con la sedia a rotelle e sono dovuto cadere, perché non si può andare né a destra né a sinistra e sono cascato per terra. Ma il problema non è solo qua, il problema c'è pure in via Narese, angolo con via Scotto, c'è pure una stessa buca ma molto più grande, ma lì c'è la discesa, piove le pietre e se ne vanno in via 20 Settembre. Abbiamo notato che le ruote della sedia a rotelle scivolano, non è quindi compatto? Non è compatto, è materiale riportato. Se fosse materiale compatto la sedia camminerebbe bene e avete visto abbastanza bene che si scivola. E un'altra cosa, guardate sopra che cosa c'è qua, dei fili caduti, che abbiamo fatto questo qua, la segnalazione, più di un anno e ancora siamo a zero. Questa è la situazione del quartiere Provvidenza. Io chiedo soltanto se possono prevedere sempre dei provvedimenti e siamo stanchi di queste discussioni che dicono sì, stiamo venendo, stiamo provvedendo, ma non si provvede a nulla.